C'è una struttura che potrebbe essere a rischio, si trova fra Scalea e Marcellina e gli abitanti della zona la riconoscono come il ponte di Mussolini. L'ultimo intervento dovrebbe risalire al 2002 con i lavori di consolidamento e adeguamento strutturale del ponte che attraversa il fiume Lao, lavori effettuati al tempo dell'amministrazione provinciale. Il rischio attuale è dovuto alle continue deviazioni del corso del fiume Lao ed anche ad una serie di situazioni che potrebbero causare danni anche irreparabili. La segnalazione arriva da alcuni cittadini che verificano spesso cambiamenti nel corso del fiume Lao. Il corso d'acqua, che mantiene una portata abbastanza consistente soprattutto in questo periodo caratterizzato da copiose piogge, scorre abbastanza velocemente. La velocità dell'acqua aumenta anche in considerazione del fatto che il fiume scorrendo fa nascere delle isolette che grazie alla presenza dell'acqua diventano oasi verdi ed è in queste particolari situazioni che l'acqua dividendosi acquista ulteriore velocità. Ma la situazione che appare più a rischio è proprio attorno ai piloni del ponte. Il fiume sta praticamente logorando la base mentre se funzionasse la briglia il livello dell'acqua dovrebbe essere più alto e lambire la parte centrale del pilone. In questo caso sembra invece che l'acqua stia consumando le fondamenta e potrebbe accadere la stessa situazione che sembra essersi verificata a lungo buco. Lo sgretolamento del materiale potrebbe generare una torsione o una inclinazione del pilone mettendolo a rischio, mettendo a rischio la stabilità della struttura. Comunque attraversata giornalmente da molti veicoli. L'ulteriore problema sarebbe anche generato dalla rottura della briglia. L'acqua ha consumato e diverto la parte centrale della briglia facendo inclinare invece la parte di più recente costruzione tra l'argine sinistro ed il centro dell'alveo del fiume. Grazie a tutti.